In 30 secondi ti spiego un trucco per diventare un pilota di motocross di alto livello Ho osservato le foto di Jack Lawrence e di altri piloti Raga, sono tutti a gomiti larghi Tutti Quando ci provo io devo stringere la moto come un pazzo curioso per mantenere la posizione Indaghiamo ancora Osserviamo un attimo queste foto della moto di Lawrence e di come tiene le leve sul manubrio Quanto sono distanti rispetto alla manopola? Questo mi fa pensare che le mani ruotino leggermente verso l'interno Così facendo, con presa morbida, eccoci magicamente nella posizione di gomiti all'esterno Tutto questo ha fatto di stringere bene la moto e guidarla con le gambe Altrimenti sei in terra dopo 5 secondi E ciao Io penso che questi dettagli facciano tutta la differenza del mondo Se hai un'opinione diversa, commenta e confrontiamoci